Ben trovati, il risultato delle primarie evidenzia la volontà di una parte dell'elettorato di essere protagonista per la futura campagna elettorale per il rinnovo del Parlamento italiano. Non si può dire nulla contro quanto ha fatto il centro-sinistra. Una grande partecipazione democratica, una partecipazione importante e questa volta quanto mai certa nei numeri. Non si sono raggiunti 4 milioni di elettori, altrimenti avrebbe vinto presumibilmente Matteo Renzi. Ci si attesta intorno ai 3 milioni e 200 mila, ma rispetto alle vecchie edizioni delle primarie di centro-sinistra o dell'ulivo che fu, sono numeri veri, concreti. Forse un po' di seggi in meno messi per svilire coloro che non erano uomini di apparato e che probabilmente hanno abbandonato il voto per non fare le lunghe attese. Perché animati, sì, dallo spirito di votare contro i gruppi dirigenti, ma poi stufi di passare la domenica ai seggi delle primarie del centro-sinistra. Ma cosa è successo principalmente in questo paese, ma anche nella nostra regione, che il risultato ha sentenziato la sconfitta del governatore Vendola. Perché? Perché a livello nazionale Bersani vince nella sua regione, così come Renzi in Toscana. Il terzo candidato perde nella sua regione rispetto al segretario nazionale del PD. Ma vince, e questo è un dato estremamente curioso, a Bari e a Lecce, le due città pugliesi in cui risiedono i maggiori esponenti del Partito Democratico. Cosa è successo a Bari con Emiliano Sindaco? E cosa è successo nel Salento con Blasi, segretario del partito, e Loredana Capone, vicepresidente della Giunta regionale? Ah, dimenticavo, Emiliano anche presidente del Partito Democratico di Puglia da tempo. Che probabilmente o hanno partecipato questi esponenti alle pubbliche manifestazioni e non hanno lottato col coltello fra i denti per il proprio segretario, o la gente ha votato proprio contro di loro, o loro sono stati fermi per creare una sorta di normale convivenza e non fare il torto al governatore fantasma da una parte e assicurarsi le future elezioni regionali dall'altra. Emiliano non può diventare presidente della regione Puglia senza l'appoggio anche di Nichi Vendola. E l'altro dato è stato generato dalla cassa integrazione delle fabbriche di Nichi, anche se lui otto giorni fa diceva questo. Ascoltate. Qual è la sorpresa? La sorpresa sarò io nelle urne di domenica. Va bene. E quanto si dà? Io mi do vincente. Si dà vincente perché prima, sempre dall'annunziata, aveva detto che Bersani, ma principalmente Renzi, erano prodotti della bolla mediatica, ma i numeri erano altri. Beh sì, dovrà certamente fare una riflessione il fantasma Vendola sul dato pugliese perché non vince in Puglia e non riesce quindi a eguagliare Renzi e Bersani come ho già detto prima che nelle proprie regioni conseguono il miglior risultato. Ma attenzione, Vendola perde anche a Milano che non è una città di tradizione post-PC ma fino a ieri governata dal centrodestra e perde con il suo sindaco Pisapia. Quindi una crisi generale, una cassa integrazione della politica ma certamente, come dire, una bella prova offerta anche dallo stesso governatore di Puglia. Cosa succederà invece dall'altra parte nel popolo delle libertà? Beh, che cosa deve succedere? Che se dovessero fare le primarie probabilmente ci saranno più seggi che elettori perché lo spettacolo non è bello, lo spettacolo che si sta offrendo di primarie finte anche perché non sono primarie di coalizione e le primarie servono, come ho già detto venerdì, per allargare il consenso. Quindi l'autosufficienza del popolo delle libertà porterà un ulteriore danno e questo lo ha capito anche Silvio Berlusconi che tenta il ritorno in politica. Ah, un altro dato che si può legare a quello che dirò subito dopo anche a proposito del popolo delle libertà. Il dato Lecce. A Lecce città ci sono parlamentari importanti, consiglieri regionali determinanti. Parlo di Lecce città capoluogo perché per ciò che riguarda la provincia di Lecce vi ho già detto che vendola, come dire, vince. Ma a Lecce città la differenza fra Bersani, quindi uomo del PD, uomo che ha al suo seguito tutti i parlamentari eletti o nominati e al suo seguito la vicepresidente della giunta regionale che è di Lecce, ha al suo seguito i consiglieri comunali che sono della città capoluogo, Bersani rispetto a Renzi prende soltanto 90 voti in più e se non ricordo male, Renzi è stato appoggiato soltanto da un consigliere comunale, il primo degli eletti, non di tradizione comunista, giovane come foresio. E questo è un altro dato, quella spinta nuova che vi è stata. Quindi dovrebbero i signori parlamentari fare un esame di coscienza. Così come ritengo che il PDL dovrebbe invece che inseguire scopiazzando male il centro-sinistra che comunque ha offerto una grande prova, come ho già detto, invece di pensare a scegliere il candidato che non c'è, farebbe bene il popolo delle libertà e tutti questi signori che vi sto mandando ora in onda, ossia i parlamentari di Lecce, Brindisi e Taranto, farebbe bene il popolo delle libertà a indire le elezioni, anzi a indire le primarie per scegliere i candidati al Parlamento italiano. Devono avere il coraggio questi signori di contarsi, di mettersi alla prova, di comprendere quanto il popolo li vuole realmente. Se non saranno in grado di fare ciò, avranno fallito. Certo, le loro casse no, sono sempre belle colme di soddisfazioni, ma le nostre casse sono ormai svuotate anche della speranza. Allora sfido i leader del centrodestra del Salento, Fitto e Mantovano, a dirmi cosa pensano delle primarie per l'individuazione dei futuri rappresentanti alla Camera e al Senato. Fatemi sapere qualcosa, dite qualcosa. Nanni Moretti, parlando di D'Alema, disse di qualcosa di sinistra. Voi dite qualcosa di riformismo liberale, che ancora io non ho ascoltato. A domani.